Il derby più sentito trova la sua trama nella seconda parte di gara con una sba che si libera dalle remore anche psicologiche che finora l'avevano frenata. Fides annichilita e uscita progressivamente di scena. Il parziale di 50-29 la dice tutta sui valori in campo dopo una prima parte della gara sostanzialmente equilibrata e chiusa con un margine di 5 punti a vantaggio dei giallo-verdi di Riccardo Paludi. Per la Fides la vittoria ero lo sbocco obbligato dopo le tre sconfitte consecutive collezionate con le squadre che ha affrontato Legnaia, Virtus Siena e Synergy San Giovanni. E che la tensione fosse palpabile lo si è capito quando Migli è stato allontanato dal terreno di gioco al termine di una convulsa fase. Da quel momento la SBA ha iniziato a difendere con grande aggressività facendo ripartire l'azione a velocità doppia degli avversari. Coutini non si è smentito con i suoi 19 punti, assecondato dalla caparbietà di Rossi e dalla mano finalmente calda dei due stranieri. Sia Tenev che Pipisca nella fase calda del match hanno infilato alcune bombe che hanno dilatato il vantaggio. Ma nel complesso è tutta la squadra che è cresciuta con i giovani aretini in evidenza. Agli ospiti non è bastata l'esuberanza sotto canestro di Pisoni. In troppi si sono espressi al di sotto delle loro possibilità anche se alla lunga è mancata quella garra che un giocatore come Tommy Sereni poteva dare in partite di questo tipo. Primi due punti per la SBA mentre la Fides resta al palo.